E' uscito negli Stati Uniti un bellissimo libro che si chiama Strangers Droning, letteralmente degli estranei o degli stranieri che stanno annegando. Ne è autrice Larissa McFarquhar, una delle firme più prestigiose e autorevole del New Yorker Magazine. Il libro è molto bello per come è scritto, ma anche per il tema che affronta, che è quello della virtù estrema. Se volessimo parlare in termini religiosi parleremo di santità. Esiste oggi nel mondo secolare, nel mondo capitalista, nel mondo liberista, la possibilità di essere dei santi, di avere una virtù estrema. Il libro della McFarquhar pone una seconda domanda ugualmente importante. E' possibile avere, perseguire una santità di tipo laico. In altre parole è possibile perseguire una virtù estrema se non c'è un richiamo trascendente, metafisico, di un qualcuno o un qualcosa che ci impone una legge morale. Siamo in grado noi esseri umani ad essere buoni? E' una domanda alta, importante, eterna. Come ricorderete Dostoevsky una volta scrisse, se Dio non esiste tutto è possibile, intendendo dire tutto è consentito, tutto è lecito, ogni possibilità di male avverrà. La McFarquhar parte da questa riflessione facendo una serie di esempi molto alti, molto importanti, e si tratta di esempi di ogni tipo. Ci sono uomini e donne credenti, sinceramente religiose, altri che sono agnostici, altri che sono addirittura antireligiosi, anticlericali. Ognuno di questi personaggi fa del bene, lei li chiama i do-gooders, coloro che fanno appunto del bene. E come è possibile che facciano del bene? Perché non si tratta delle opere di beneficenza che in tanti fanno, si tratta di scelte estreme in cui questi uomini e queste donne rinunciano a tutto proprio per aiutare gli altri. L'esempio più clamoroso è quello dato forse da una coppia, si chiamano Sue ed Hector Badot, che hanno adottato 20 bambini dopo averli generati due. E hanno dedicato tutta la loro vita a questi bambini, spesso malati, spesso condannati da malattie terminali. Hanno dedicato appunto tutta la loro vita per farli stare bene, per dargli un po' di speranza, un pochino di calore. In questo caso si tratta di un uomo e una donna con una forte convinzione religiosa, sono cristiani. Ma in altri casi, dicevamo, questa fede non c'è. Per esempio nel caso di un uomo soprannominato Baba, che in India ha aperto un lebrosario dopo essersi vergognato di non aver saputo accogliere, abbracciare appunto un lebroso. Lui è convinto che invece la religiosa sia addirittura un male. In casi come questi è inevitabile confrontarsi con la religione, qualunque sia la nostra attitudine e qualunque sia l'attitudine di questi uomini e donne che fanno del bene, questi do-gooders. Nel Vangelo di San Giovanni, al terzo capitolo, c'è scritto, gli uomini preferiscono le tenebre, ed è un passaggio che fa paura, come dire che l'uomo tende al male, ma c'è bisogno di un Redentore. Ebbene, è possibile senza un Redentore, senza un Messia, senza qualcuno che ci dia la strada fare così tanto bene? E com'è possibile che oggi, in una società che tende sempre di più al consumo, tende sempre di più al cinismo, sembra ignorare il dolore degli altri, per citare un bellissimo libro di Susan Sondak, com'è possibile appunto che ci sia qualcuno che voglia fare il contrario? L'uomo o la donna è tendenzialmente buono o cattivo? E quando fa una scelta così estrema, a cosa obbedisce? Io non ho una risposta e credo sinceramente che nessuno ne abbia una precisa. Mi limito ad analizzare che un intellettuale inglese, anche se new yorkese di aduzione, rifletta, analizzi su un tema così importante. E già questo suo anelito, già questa sua riflessione, già questo suo sottolineare che il bene possa esistere, è bene in sé. Un saluto da Central Park West. Grazie a tutti.